Alla finestra Spirit Wild Wild, per il momento 5,20 la sua quota. Mezzo meccanico in movimento, seconda del convegno, buoni quattro anni sul meglio, otto in prima, quattro in secondo, tre e quattro legati dal rapporto di scuderia. Allineamento che va a completarsi. Arretrato signorotto Parma, molto arretrato, addirittura parte in terza fila il signorotto. Sibischi di Bielle arretrato, imitato da Salsiccia, via la macchina. Si giocano i birilli tre cavalli, ma poi la meglio la prende la Sveva, nei confronti di Scanzano M. Si va in piegata, si completa il lancio in tredici e quattro. Subito a tabellone, probabilmente l'undici. Si va al completamento e la piegata, viene via Sonic One che è rimasto nasino al vento. Sonic One punta in avanti, ventinove e tre. Sonic viene via deciso e va su Sveva. E sì, è il numero undici che è finito a tabellone. Insiste il Sonic One, 600 in 43 e 9, notevoli dopo partenza piuttosto cauta. E cavalli che affrontano la piegata. Con Sonic One, Sveva, Scanzano, poi Seneca, Griff. 59-1 in mezzo miglio, da 1.14. Viene via anche la Salsiccia. Il 10 a tabellone, si distende alla grande Sonic One. Timbra il chilometro notevole in 1.13.5. Solo la Sveva e Scanzano cerca di non perderlo di vista, il leader. Curva finale, ancora prestazione notevole in 14.4, uno, 27.9, tre quarti di miglio. Scappa via Little Devil, scappa via Little Devil, prende vantaggio. Sonic One in chiaro vantaggio, poi la Sveva deve far passare solo i metri. Alla prima improvvisazione viene via la grande Silvestar Feier. Che buon secondo, Sonic One un vero numero. E per il terzo la Salsiccia ma senza Friarielli. 1.59.4, 1.14.6, bagna da training e da guida Little Devil, Peppe Ruocco. Con questa veramente creazione di Sonic One, 3.49 al totalizzatore, un giganeo dell'Angelica EC. Bene bene l'allievo di manini dolci. La Salsiccia, oggi senza Friarielli, si deve accontentare della terza moneta. Questi sono i numeri della seconda. Sonic One, un vero numero. Complimenti Little Devil. Buon aspiccio per l'ultima del convegno con Pioneer Guard. Almeno per il momento i preliminari.